L'articolo 12 del testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta lezione delle liste elettorale, approvato con il 10.11.3.1967.823, successiva modificazione e intervenzione Il successivo articolo 12 ci prevede che per le elezioni della Commissione ciascun consigliere scrive nella propria scheda di proposizione un solo nome e solo per domani eletti coloro che hanno un rapporto di maggior numero di gruppi. Con quelle nuove intenzioni, al pleno il Consiglio composto da un numero di membri che vale è l'inveriore al cittadino e le commissioni devono essere presentate da minoranza a qualsiasi valore della vocazione non si è riuscita. Non si è riuscita eletta alcun consigliere di minoranza che dovrà essere chiamata a con parte della commissione di sostituzione del gruppico eletto della maggioranza. Il consigliere di minoranza è ottenuto in maggior numero di gruppi. L'assegnazione deve essere per quattro un'unica vocazione con il rispetto che almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il simbolo non prende parte alla vocazione. a partire di voti, a parità di voti e restituzi così che il canziano di età. Con votazione separata con le stesse modalità si procede all'elezione dei medici supplenti. Parlo Esseni raccomandante l'articolo 2 della rete finanziaria del Tanno 10008 del 24 al 12 del 17 numero 2144 attribuette le funzioni della Commissione elettorale comunidade alla responsabile dell'edificio dell'edificio alle comunali comunale, parlo alle funzioni2020e di articolo 12, 12 e 14 suscitato dal Testovvero alcuni quanti romani, con il regno del 223, del 266, per dare la commissione, in parole si occuperà soltanto della promozione e degli aggiornamenti dell'eleno dei soggetti abitati all'esercizio e per le visioni di scutatori, non per la noma di scutatori, ma per il carico di membro della commissione elettorale e gratuita. Che è il fatto del presidente e non è il 276 e quindi non si chiede, 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 non si chiede. Allora, chiedono la sospensione di 5 minuti, forse ancora a restocchi a porto, si chiede. Forse ancora a restocchi a porto, si chiede, non 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 si chiede. Grazie.